Ciao a tutti bentornati su Fortnite! Allora, proviamo ancora ad andare a seccare questo Deo Deo Lippo Dio, semplici! Dei al volare! Deo, Dio, svolare! Che Dio! Mi sono scusato! Cioè, diventa un altro tipo, se vedete Dio! Vabbè, comunque, a parte queste precisazioni Prima sono riuscito a seccare il nostro avversario, eh! E un po' di gente che è in zona! Riuscirò a replicare? Ne dubito! Qua sono scesa solo per le munizioni! Ne dubito fortemente, anzi! Devo troppo muovere! Quella nostra dove stia andando, ok! Ok, fucile! Ok, bombetto! Ok, questo no! Devo prendere un bel po' di armi perché poi la situazione con tutto questo robo si fa complicato! Nooo, c'è la tempesta! Ma che rottura! Prima non c'era la tempesta a rompere quando sono riuscita nell'impresa! Prima non c'era la tempesta! E adesso come si... come la mettiamo? Adesso mi devo muovere! C'è una cacchia di macchina o qualcosa, no? Temo di no! C'è anche armi abbastanza scarsine! Non so come andrà a finire sta battaglia! Se l'ultimo riuscirò il po' di voler ai suoi avversari e poi si secca lui! È quello che ho capito! Ok, questa mi serve per svegnarmi! Questa è migliore dell'altra! Questa è morta! Questa è morta! Non lo sei più! Allora, il tempo stringe... Quindi... A meno che non ci siano altri farabotti in zona... Andiamo a fare un affronto a questo! Scusa! C'è una... Una... ...dua! Oh,!! Ponder sono le papi! Ci posso rispare a qualcuno? Non c'è un'altra... Guarda! TomeитИ! ho fatto fuori l'osservitore quindi qui sono gli altri no dai tempestina è pronto ragazzo qua adesso 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 wow Ok, matta, però, take the medaion, rush the chest, e andiamoci via. Per dopo mi serviamo. C'è anche la nota. Dai, dai, dai! Qua ci mette tre secoli a riportarsi da le donne qua. Ok, scendi. Vediamo se c'è qualcosa che mi interessa. Esattamente te mi interessi. Abbiamo un fucile scarsissimo. Però questo merita. Dove la moto? Allora, un mare di chino. Questo è l'inversario. Quell'altro viene sfuggito di me. Allora, abbiamo seccato Ares. Il disco del Deo. Dallo Zeus. Non so quali siano gli altri. Comunque mi mancano solo due. Allora, qua mi sono di forte. Se ci mettono tanto a seccarsi tra di loro. Smooth. E ricordiamoci che il bot, appena è musca, ci sgama. Ok. Andiamoci su questo. Tempore. 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 Un fucile, però. Te lo dico. Io te lo dico. Ok, cosa c'è? Tempore. Tempore. Ah dai. Come, chi ti vuole? Tempore. 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 Ok, migliorate un pochino la situation. Tempore. Tempore. No, 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 no. Non voglio andare qua. Ravvicinato. Te lo scordi. Torna assieme. Vediamo che si può fare. Sì. Wow, questa arma è spettacolare. Quasi meglio le fucerozze, però se mi dai un fucerozze mi fai felice. Nada! C'è un po' di più. di un'ecco a tutti qui ci sono in acaso qui stanno spettando qui e non lo so che non lo so si è un'errore che è un'errore che è un'errore che è un'errore e non lo so Sì, posso coppare? E' un spettacolo st'arma, ombre, spettacolare. Beh, prima di qualcosa io prendo. E' un'altra cosa mi ha lasciato ombre. Stancio ombre, così da sola. Allora, adesso c'è il porto gravatiere. Porto gravatiere qua o qua. E' un'altra cosa. Pappa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Comunque sei kill Devo distogliere l'attenzione sarebbe però C'è ancora Dai delle sedie ti fermano Città Vieni Ti andiamo a parlare No è lui l'anno seccato Vieni non ti posso più prendere Cacchio Peccato Se riuscissimo a cambiare fucile no È andato così ragazzo Mi sarebbe stato troppo A posto delle aree sto giro Credo non è una cosa Ok Già inizia a farsi duro Ok Ok Sparcheggio perfetto Perché prima ha finito Un attacchio Non è morto Diciamo così Scusate che questa roba non si può Non si può Scusate Perché se si sparano Inizia la mia cassa Inizia Non si può intervenire E attaccare questa violenza Cacchio 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 Scusate si è dato si è dato in maniera va troppo la cacchia di energia sai? lo scappa perchè praticamente è morto dov'è? ciao muoviti andiamo a dargli il colpo di piante dai staccacchi i cunetti ci mancavo non so se siete botta a cosa però se scappavi forse non eri così botta questa arma è spettacolare uccide assalto a te però da guerra adorato adesso che so che c'era così qui la fai dato spesso chi mi ha faccio un fucile? non mi credo si vede che mi ha sconcio un fucile bello che cos'è questo? ci vuole assalto oh bella e mania ancora più potente ok torna su e andiamoci e percorso che sei ci vuole ora percorso guardare i ma la macchina si è rovinata e no sto andando contro tempeste non ci credo schiattati qua lì la macchina music e torniamo lì qua non ci credo che la piccola sta accionata in un blocco anche si ci sto perciugando adesso va prima non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo non ci vediamo oh no no ma che dozzo ma che dozzo nooo so che non ci fa non ci vediamo 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 da cacchio eh brutta queste cose qua lì finisano proprio in mezzo e non è che sia esattamente il massimo eccola lì una macchina ok non ti uccido ma la tua macchina viene con me eh c'è qualcuno che è morto qua sotto qua sotto eh mi salta su no 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 non è ecco si è piaciuto un po' di siccare un po' di siccare un po' di siccare e' il peso di un'efficienza 1.100 km di distanza! Però occhio perchè non sono l'unico sopravvissuto. Ok. Questa è questa spara, non so come ma so spara. Questa è l'unico sopravvissuto. Wow, non so come ho fatto perchè ho sparato proprio mozzo ma ho vinto. Grande. Questo è il record di kill in questa stagione, che sono esattamente 10. E' forse la più bella partita della stagione, soprattutto perchè ho vinto. Ho killato un boss, ho fatto fuori 10 persone. Finale un po' incerto, vabbè. Un po' fortuna ma l'arma è potentissima. Bella lì ragazzi. Iscrivetevi al canale e lasciate il like se vi va. Ciao. знаешь ciao? Grazie a tutti.